Salve a tutti, io sono Andrea Poltonieri del Museo Piemontese dell'Informatica, grazie per essere qui, nella mia presentazione vi posso mostrare la nostra idea di come dovrebbe essere un museo dell'informatica, il titolo dice esporre una scienza, perché la prima difficoltà che troviamo è il problema di esporre l'informatica, che è un concetto astratto, esporre i computer è facile, esporre un concetto è molto più difficile, come diceva, mi sembra Dijkstra, i computer hanno a che fare con l'informatica un po' come i telescopi hanno a che fare con l'astronomia, un museo che espone solo computer non sarebbe un museo che parla di informatica, il nostro obiettivo invece è qualcosa di diverso, non dico più grande o migliore, è diverso, un approccio che va oltre a esporre dei pezzi. Noi vogliamo, il nostro obiettivo è di fare un museo dell'informatica, perché l'informatica oggi è una scienza con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, tutti i giorni noi prendiamo in mano oggetti che sono strumenti informatici, abbiamo a che fare anche senza vederlo, qui c'è la porta di un bancomat che è uno strumento informatico e lo usiamo tutti tutti i giorni. Alcuni di noi, oltre ad usarli tutti i giorni, desiderano conoscere meglio le potenzialità dello strumento che hanno in mano, oppure semplicemente desiderano conoscere nella storia. Di nuovo prendo in mano questo telefono che ho, questo telefono monta un processore che è figlio di un processore sviluppato nella metà degli anni Ottanta da una consociata di Olivetti, è un piccolo dettaglio che nessuno conosce, può essere interessante divulgarlo. Con la nostra idea di museo noi vorremmo spingere verso il pubblico la conoscenza di questi concetti, della storia dell'informatica e una conoscenza migliore degli strumenti che abbiamo sempre in mano. Cerco di essere breve per lasciare spazio anche a tutti, eventualmente salto qualche slide. Ora, scendiamo un po' nel dettaglio. Come noi vorremmo esporre l'informatica? Noi vorremmo esporrela innanzitutto con un percorso cronologico a tappe. Vi sto mostrando una sorta di mappa mentale di come noi vorremmo, non è strettamente legata a un'esposizione fisica. Noi nel nostro futuro museo, quando avremo uno spazio espositivo permanente nostro, riteniamo di dover esporre la storia dell'informatica appunto con un percorso a tappe, quindi scegliere dei momenti topici, in questa slide sono scelti dei momenti in maniera assolutamente arbitraria, è che qualunque esperto di informatica potrà dire no, quel particolare oggetto non è così importante ma avresti dovuto mettere qualcos'altro. è arbitraria, è un esempio e l'abbiamo fatta noi perché abbiamo deciso così. Tu potresti dirmi touring non è il più importante, c'è qualcun altro più importante e si può discutere per un'ora. Questo è giusto un esempio di come vorremmo mostrare la nostra esibizione. Dopodiché vorremmo scegliere dei momenti particolari, degli oggetti particolari, delle cose particolarmente significative e approfondirle. Ad esempio, di nuovo scelgo dei momenti della storia dell'informatica in questa presentazione che possono dare un'idea di come vorremmo esporle. Non sono necessariamente i più importanti, i più spettacolari, i più belli, sono un esempio di come vorremmo esporle. Qui abbiamo un'idea di un approfondimento che vorremmo mettere nel nostro museo che è l'epoca della seconda guerra mondiale, il titolo è la guerra delle informazioni. Durante la seconda guerra mondiale, oltre a cannoni, cadermati e sommergibili, sono stati usati anche strumenti informatici per farci la guerra. C'è tutto il grande tema della crittografia che è stato approfondito, è stato superficialmente trattato nel film di qualche anno fa che mostrava la vita di Alan Turing. Oppure l'altra persona, dall'altro lato, è Eddie Lamarre, la famosa attrice, cantante, intertenitrice, che è famosa per due cose, per aver fatto la prima scena di Nudo Integrale al cinema e per aver inventato un sistema per proteggere le comunicazioni con i siluri, che è, diciamo, in senso lato, utilizzato ancora oggi nelle telecomunicazioni. Ma sto trappo vicino, trappo lontano. Un altro esempio di come potrebbe essere organizzato il museo è un approfondimento sulla storia dei videogame. I videogame nascono come un hobby, come un passatempo creato per se stessi da scienziati, da tecnici. Il primo videogame è stato fatto dallo sviluppatore per usarlo se stesso. Ne ho scelti tre a caso, arriviamo sull'ultimo Zelda, che è un gioco che ha un budget di sviluppo più grande di quello che può avere una grande produzione cinematografica. Oggi l'industria dei videogame muove più soldi di quelli che muove l'industria del cinema. Come si è passati da un passatempo per hobbysti per se stessi alla più grande industria del mondo, o una tra i più grandi? È interessante scoprire come, noi vorremmo mostrarlo. Un altro approfondimento che può essere, che a noi è di particolare interesse. Il primo personal computer, cioè il primo computer pensato e costruito per essere usato da una singola persona, è nato all'Olivetti e ce n'è uno esposto là e un altro di là, in questo momento. Questo è un approfondimento che merita di essere fatto, non tutti lo sanno. Oggi se ne parla un po', però è un tema abbastanza misconosciuto, si conoscono abbastanza bene i personal computer degli anni 70, ma non certo Olivetti 101. Un altro approfondimento più antropologico che non tecnico. Tra gli anni 70 e i primi anni 80 è nata l'informatica personale, perché prima l'informatica era qualcosa di professionale, usato dalle aziende, qui abbiamo un mainframe, un grande computer usato dalle aziende. Nella stessa, in quell'epoca, indicativamente nella seconda età degli anni 70 abbiamo avuto una diffusione dell'informatica nelle case degli utenti comuni e così via. Andiamo avanti su altri approfondimenti. Naturalmente il nostro progetto è fare un museo vivo e interattivo, non solo esporre degli oggetti, esporre dei concetti e dei temi, ma anche offrire un momento di approfondimento. Qui abbiamo un esempio, abbiamo in corso dei laboratori di Coder Dojo per bambini, abbiamo altri laboratori didattici. Nel nostro ideale museo dell'informatica vorremmo ospitare eventi interattivi per il pubblico. Non sto a dirvi chi siamo, perché spero che se siete qui voi già lo sapete. Comunque il Muping è un'associazione culturale non a scopo di lucro. Non abbiamo una sede visitabile, naturalmente, ma abbiamo l'idea di come farla. Ci stiamo lavorando. Grazie per avermi ascoltato. Cedo la parola ai colleghi. Salve, io sono Antonio Giudice e insieme ad Andrea Milazzo siamo parte di una realtà particolare. Appresentiamo qui due musei che siamo autodefiniti museo trasregionale, perché una delle nostre due sedi è a Cosenza, l'altra è a Palazzo La Creide in provincia di Siracusa. Allora, faccio veloce per non rubare tempo a chi viene dopo di noi. Allora, ci definiamo museo trasregionale proprio perché non so se siamo i primi in questo senso, ma penso sia più interessante l'approccio che il fatto di essere i primi o meno in questo senso. Ecco, la nostra visione è quella proprio di, come dire, intanto ci chiamiamo uno museo dell'informatica funzionante e l'altro museo interattivo dell'archeologia informatica proprio perché una delle componenti fondamentali è il fatto che i computer sono funzionanti e sono utilizzabili in buona parte. Proprio per, come dire, per l'approccio end zone della cultura hacker, se vogliamo. L'approccio antropologico perché, come dire, la tecnologia non è mai solo tecnologia e basta, ma è fatta anche da persone, quindi da esseri che ci mettono anche sudore, sangue a volte. Progetto all'intermediccia nel senso che comunque ci piace mischiarci molto con settori apparentemente distanti, appunto, e multidisciplinare perché per forza di cose ci troviamo a affrontare tanti tipi di settori per poter, come dire, riuscire a ottenere i risultati che vogliamo. Allora, le nostre storie, molto brevemente, fondamentalmente i due musei nascono in contesti, come potete immaginare, abbastanza impegnativi perché, come dire, se già è difficile in Piemonte, figuratevi in sud Italia, riuscire a farsi riconoscere come realtà presente sul territorio. Abbiamo cercato in questi anni di ottenere, come vedete, collaborazioni con università, insomma, ci stiamo lavorando, fondamentalmente poi dal 2008 in poi abbiamo incominciato a lavorare a stretto giro tra i due musei perché fondamentalmente condividiamo praticamente tutto dell'approccio all'attività museale che, tra parentesi, si basa esclusivamente su base volontaria. Il Musif, in particolare, poi, come dire, ha un po' di attività alle spalle. Abbiamo iniziato abbastanza presto con quest'idea del museo. Le prime raccolte di Ardo sono state cominciate addirittura all'inizio degli anni 90. Andiamo avanti, non andiamo nei dettagli della storia. Per darvi un'idea di quello che è il patrimonio museale dei due musei, a Cosenza abbiamo, ecco, per dare i numeri, come diceva prima di me, allora, per dare un po' dei numeri, ci abbiamo, queste sono più o meno le cifre delle cose che abbiamo raccolto in questi anni. Più o meno perché? Perché ovviamente, come dire, non è facile dare delle stime precise di tutto quello che siamo riusciti a accumulare. E il lavoro di restauro e recupero è sempre, come dire, un work in progress, ovviamente. Ovviamente, come vedete, aspetta, torno un attimo. Come vedete, c'è, come giustamente diceva Andrea, quello che conta non è solo il pezzo, come dire, il computer. Fondamentali sono i documenti, i libri, i rivisti, i rivisti e i media, cioè quindi i vari tape, dischi, tutto quello che fa parte dell'informate, quindi non solo del computer. Allora, per farvi, va beh, qui c'è un po' un elenco di cose che abbiamo, di pezzi particolari, tra cui vi faccio notare, abbiamo ricostruito noi un Apple 1, perché ci siamo detti a un certo punto sarebbe bello averlo, peccato che costa veramente tanto, e quindi abbiamo detto perché non riprodurne uno? No, no, ma dire, tranquillo, chiudiamo velocemente. Va bene, va beh, qui un po' di cose, un esempio, questo è un esempio di recupero che abbiamo fatto all'Università di Catania, un vecchio Unisis. Sì, comunque, per farvi capire, queste sono un po' le attività che facciamo, facciamo mostre temporanee, eventi artistici, restauri e ricostruzioni, e facciamo recupero di dati dai media obsoleti, cioè facciamo questo servizio, abbiamo incominciato da qualche anno, abbiamo già recuperato anche, per esempio, un esempio di recupero interessante, è stato quello fatto, ecco qua, per esempio, abbiamo recuperato un sistema operativo che era praticamente disperso, siamo riusciti, hackerando un lettore, scrivendo noi il software per andare alla legge, siamo riusciti a recuperare un sistema operativo polacco considerato disperso. per farvi solo capire velocemente che cosa affrontiamo quando andiamo a fare un restauro. Questo è come abbiamo trovato questo Saga Fox in un pollaio, si capisce di che cosa è ricoperto, dopo il nostro intervento siamo riusciti a farlo funzionare, giusto per farvi solo un'idea di che cos'è il nostro restauro. Cosa dire? Grazie dell'attenzione. Grazie a tutti, scusate se mi sono dilungato sulla mia presentazione rubando un po' di spazio agli amici, mi sono fatto trascinare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.